Ciao amici, benvenuti sul canale 3chic, oggi vi presentiamo uno dei nostri format migliori di sempre, il glow paint war. Ma che cos'è il glow paint war? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Il glow paint war è una guerra di colori, guarda, non è una semplice festa, è una guerra di colori dove vi troverete sommersi da centinaia di litri di vernice a uvini, se è più di cento sono centinaia, tu sei il nostro amico, in ogni caso, i glow party li fanno tutti, voi non siete mai stati a un glow paint war. Panta aperta. Non è un normale flow party, ma sarete voi di illuminare la notte, anzi, saremo noi a farvi illuminare la notte. Va bene così, lei no. Tutti siamo stati almeno una volta a un glow party e sono tutti uguali e banalissimi, dimenticatevi qualsiasi cosa abbiate visto prima perché il glow paint war è estremo. È una guerra di colori. Quindi prendete i vostri braccialetti, le vostre collanine fluo, i vostri occhialini fluo, le vostre orecchiette da cognio fluo e buttatele via. Abbiamo centinaia di... Abbiamo centinaia di litri di coloro V che verranno rovesciate letteralmente sulla vostra testa. Per il nome di... No, faccio tipo... Per la riuscita del party è fondamentale vestirsi di bianco. Dai, non vado bene così, nero. No, bianco! Dai, che fallo bianco, non mi piace! Beh, molto meglio. E adesso vestiamoci di bianco. Data la natura liquida dei nostri colori, vi consigliamo altresì di nascondere i vostri cellulari e oggetti tecnologici, in una paradissima bustina. Altresì. Noi te l'abbiamo detto. E il resto non lasciamo la vostra immaginazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.